Sei entrato anche tu nel sistema di emergenza, dell'infiammazione? Quali sono i campanelli di allarme che puoi cogliere nel tuo corpo per comprendere che l'infiammazione è diventata il tuo modo di funzionare normale del tuo corpo, anche se sarebbe in realtà un sistema di emergenza che entra in atto quando il corpo è in difficoltà, ma se il corpo è in difficoltà ogni giorno lo tramuta nel suo modo di funzionare normale e questa dell'infiammazione è una delle emergenze più grandi che gli scienziati, gli studiosi, i medici di tutto il mondo si stanno trovando a fronteggiare. Comprenderla e capire come lavorarci è uno degli, come dire, degli argomenti all'ordine del giorno più importanti di tutto il mondo medico. Allora andiamo a capire se per caso questa infiammazione è scattata anche nel tuo corpo, vediamo da cosa te ne puoi accorgere. Primo sintomo importantissimo è che non riesci in qualche modo più a ristabilire il tuo peso forma. Hai sempre dei fastidiosissimi rotolini sull'addome, soprattutto questo peso si accumula sull'addome e non ti abbandona, anche se fai mille sforzi per, come dire, per cercare in qualche modo di metterti a dieta, di diminuire quello che mangi, di muoverti di più. Questi rotolini e questo peso in realtà non riesce assolutamente a smuoversi. Abbiamo sempre questa sensazione di peso in più che non riusciamo a sbloccare. Poi lo stomaco, altro sintomo importantissimo, lo stomaco è in disagio e ha spesso bruciore, ha spesso fastidi, come dire, di acidità e hai la sensazione di aver bisogno di mangiucchiare continuamente, perché il tuo stomaco è sempre in una situazione di disagio che ti richiede continuamente di mangiare. E questa fame, in qualche modo, proprio a tratti quasi disperante, è come se andasse aumentando nella giornata per arrivare a sperimentare il suo apice, proprio la sera dove veramente ti si scatenano tutte le voglie e continueresti a mangiare, 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 fripando di andare a dormire, sembra che non ci sia mai una soluzione di riuscire veramente a sentire il senso della sazietà. Altro sintomo importante è la difficoltà a dormire, che può avere tanti colori diversi. Può essere che tu abbia difficoltà ad addormentarti, può essere che tu abbia invece frequenti risvegli notturni, spesso tra le due e le tre. Quella è una fascia dove facilmente ci svegliamo. Può essere che il sonno sia intermittente, può essere che il sonno non raggiunga mai il suo stato di profondità. Per cui di fatto, quando ti svegli, hai la sensazione ancora di avere, come dire, di non aver riposato. Cioè, come se in realtà sono passate anche le tue ore canoniche, sette, magari addirittura otto, ma tu ti svegli completamente stanco, come se la notte fosse passata insonne o comunque non appunto fruttuosa di riposo vero. Altra sensazione che può darci l'idea che c'è infiammazione nel nostro corpo, relativa alla bocca, abbiamo fastidi di acidità, abbiamo sensazione di alitosi, abbiamo sensazione di avere sempre una bocca amara, che cerchiamo di migliorare con gomme, da masticare con caramelline, ma questa bocca è sempre cattiva. Qui è senz'altro collegato anche a un'infiammazione che sicuramente coinvolge anche il nostro fegato. Altri sintomi che possono farci pensare che abbiamo imboccato alla via dell'infiammazione, sono tutti i sintomi di natura allergica o di intolleranza. Quindi se questa cosa improvvisamente è apparsa nella nostra vita, per cui sembriamo, come dire, aver imboccato una via per cui sempre più cose ci danno fastidio e sicuramente ci hanno detto che può essere il glutine, sicuramente ci hanno detto che può essere il lattosio. Questi sono ovviamente i due primi alimenti che si sa contengono contengono sostanze intossicanti che facilmente scatenano reazioni di intolleranza, ma sono sintomi in crescita. Possono essere digestivi, quindi addominali, soprattutto intestinali, possono essere problemi della pelle, possono essere problemi di natura invece del respiro, quindi le prime vie aeree, il muco, le orecchie, può essere i polmoni. Quindi difficoltà di vario genere di natura allergica, quando questo appare nella nostra vita, soprattutto se siamo adulti, questo vuol dire sempre che è un segnale che l'infiammazione ha iniziato a darci fastidio nel nostro corpo ed abbiamo imboccato questo sistema alternativo di funzionamento che dobbiamo riconoscere e poi di cui ci dobbiamo occupare. Altri problemi molto molto importanti possono essere improvvisamente disturbi della pressione, per cui la pressione diventa alta quando non lo era mai stata e perdura. Sicuramente siamo sempre di fronte all'infiammazione. Disturbi della tiroide, quindi di tutta la sfera ormonale, siamo sempre 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 di fronte all'infiammazione. Dobbiamo occuparci di quello per risolvere questi problemi o perlomeno per ridurre la sintomatologia. Anche la sindrome metabolica, quindi quella che ti descrivevo all'inizio, quando diventa veramente importante, iniziamo ad accumulare un sovrappeso importante che assolutamente non riusciamo a smuovere, che il dottore ci dice che è qualcosa che dobbiamo assolutamente perdere questi chili, anche perché continuiamo ad accumulare, 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 anche se ci sembra di mangiare come degli uccellini. Però veramente il peso assolutamente aumenta, anche solo guardando il cibo. Tante persone mi dicono, ma a me basta guardarlo il cibo che già mi ritrovo un chilo in più. Poi tu ti disturbi del ciclo, da ciclo doloroso a ciclo intermittente, a fastidi di natura, sindrome, come dire, preciclo, per cui inizio ad avere il nervosismo, l'agitazione, il gonfiore, prendo addirittura dei chili in più ogni volta che mi deve venire il ciclo, a disturbi invece, per esempio della menopausa, che si aggravano enormemente quando siamo in infiammazione, ma l'infiammazione riguarda anche maschietti, per cui tutti i disturbi legati proprio anche alla gestione della nostra attività sessuale. Magari abbiamo delle defaianze e comincia questo a diventare un problema, oppure abbiamo magari eiaculazione precoce, difficoltà a riprenderci dopo un rapporto, anche tutti i disturbi legati alla prostata, sono tutti disturbi collegati all'infiammazione e quindi è un qualcosa che riguarda sia le donne che gli uomini. Siamo arrivati poi alla sfera dell'energia, quindi abbiamo tutta la sfera della stanchezza, dalla sensazione di non avere energia appena ci svegliamo, dalla sensazione durante la giornata che siamo sottoposti a uno stress esagerato che non riusciamo assolutamente a gestire, la sensazione di arrivare alla fine della nostra giornata con una pressione sulle spalle che non ci siamo assolutamente tolti, per cui un peso enorme che ci strozza e ci rende la vita veramente difficile e poi tutta la parte della mente e non solo delle emozioni, ma della mente. Quindi iniziamo ad avere pensieri di malinconia, se abbiamo incominciato ad avere problemi di depressione, tutta la sfera della attacchi di panico, sensazione di non farcela, malinconia, pensieri assolutamente privi di speranza riguardo alla vita, tutto questo dal corpo, abbiamo descritto sintomi del corpo a sintomi invece che riguardano la mente, che è una cosa sola, sono tutti collegati all'infiammazione, a questi organi che lavorano insieme, quindi il metabolismo, questi sistemi che sono tutti collegati, sistema metabolico, sistema ormonale, sistema immunitario e sistema nervoso, che sono tutti collegati, se se ne sballa uno incomincia uno a essere in problematica, entrano tutti in uno stato di emergenza, di funzionamento ridotto e il segreto è capire come si esce dall'infamazione, perché si può uscire e tutto il metodo Sauton, il metodo che ho costruito è proprio, come dire, si occupa esattamente di questo, riuscire a ripristinare un corretto funzionamento del tuo corpo. Ciao!